freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete. Io sono Alessandra Farabegoli insieme a Miriam Bertoli e Gianluca Diegoli sono una delle tre persone che nel 2012 hanno dato vita al freelance camp. Sia io che Miriam e Gianluca lavoravamo già da un po' di anni nell'ambito del digital marketing e nel 2012 eravamo da poco diventati freelance e così parlando fra noi delle gioie e dolori della vita da freelance abbiamo pensato di estendere la conversazione ad altre persone, a tutti quei colleghi e colleghe che si confrontavano con noi, che leggevano i nostri blog, che parlavano con noi, conversavano con noi sui social network e così gli abbiamo dato appuntamento in un venerdì di fine maggio al bocca barranca di Marina Romeo, uno stabilimento balneare in riva al mare dove ci siamo incontrati, eravamo una cinquantina più o meno il primo anno, per fare un barcamp. Un barcamp è una non conferenza, una conferenza informale dove le persone arrivano e chi ha qualcosa da raccontare, chi pensa di avere qualcosa di interessante per gli altri e lo vuole raccontare appende il suo post-it e dà il suo talk. In quella giornata abbiamo parlato di diverse cose, abbiamo parlato di home working, organizzare l'ufficio in casa, scegliere i clienti, imparare a distinguere i clienti giusti da quelli tossici da cui scappare, fare i preventivi, capire quali strumenti usare nella vita di tutti i giorni, insomma tutti quelli che sarebbero poi diventati negli anni i temi sui quali si è sempre parlato in questi anni durante i freelance camp. La cosa funzionò benissimo e alla fine di questa giornata eravamo tutti più vicini gli uni agli altri, ciascuno sentiva di avere imparato, di avere condiviso e anche di sentirsi meno solo, perché uno dei problemi del lavoro indipendente è che sulle tue spalle gravano tutte le scelte e quindi hai un po' l'impressione di dover fare tutto per conto tuo, di non avere altre persone con cui confrontarti, con cui condividere le scelte da fare e anche i criteri con cui fare le scelte. Non c'è nessuna azienda che ti dice cosa devi fare perché l'ha detto la tua capa o perché ci sono le procedure che ti spiegano come si fanno le cose, te lo devi inventare, costruire con l'esperienza e a volte le soluzioni giuste oggi sono diverse da quelle che hanno funzionato in passato. Quindi confrontarsi con altri, capire che non si è soli ad affrontare certi problemi e vedere come gli altri li hanno affrontati e spesso risolti è molto di aiuto non per solo per le cose che impari ma anche per il fatto che ti senti per l'appunto non solo in un deserto di problemi ma insomma insieme ad altre persone che possono capirti. E così appunto visto che la prima edizione aveva funzionato molto bene l'anno dopo decidemmo di rifarla e di dare un po' un assetto più stabile al progetto quindi creiamo un sito con un blog dentro e all'interno di questo blog iniziamo a pubblicare le interviste alle persone che avrebbero partecipato al freelance camp e dopo la giornata del 2013 anche le slide di tutti gli interventi che c'erano stati e un po' di reso conto degli interventi, delle cose che ci eravamo detti. Il progetto è continuato, nel 2013 eravamo un centinaio quindi più o meno il doppio dell'anno prima, nel 2014 eravamo ancora di più, quasi 200. Visto che il progetto continuava a crescere abbiamo iniziato a cercare anche degli sponsor perché l'organizzazione diventava più complessa e avevamo bisogno anche di sostenerla economicamente. Nel 2015 è arrivata Silvia Versari senza la quale non saremmo riusciti a gestire tutta l'organizzazione del progetto che cresceva e quindi diventava più importante, più impegnativo da tenere insieme e sono anche arrivati Fabrizio Lisse e Pierangelo Valente che avevano in mente di creare una loro azienda che si occupava di produzione video, quella che poi è diventata lì a poco video. Fabrizio e Pier si sono offerti di registrare e trasmettere in streaming l'edizione del 2015 e così abbiamo iniziato anche ad avere la documentazione video. Tutti i talk del freelance camp non solo trasmessi in streaming ma anche pubblicati su YouTube ed è diventata ormai una videoteca di riflessioni su quelle che sono i pilastri portanti del content strategy del freelance camp. Da una parte i soldi, quindi fare i preventivi, farsi pagare le fatture, tenere, fare i budget, rispettare i budget, capire come alloccare le proprie risorse economiche come anche mettere da parte dei soldi per non restare alla canna del gas quando perdi un lavoro o hai un inconveniente. Gli strumenti e i metodi, quindi l'approccio alla vita, all'auto-organizzazione del lavoro sia in termini di approccio psicologico e modo in cui relazionarsi al lavoro, sia in termini proprio anche di strumenti pratici, quindi software da usare, sistemi per rimanere concentrati, per lavorare meglio, per mantenere, impostare dei paletti e rispettare questi paletti. Storie che insegnano, quindi esperienze di persone che hanno qualcosa da mettere in comune e pensano che possa essere utile agli altri, quindi lavorare con le agenzie, creare dei gruppi di lavoro più o meno permanenti, lavorare in co-working, fare dei progetti pro bono, storie di questo genere. Di tutto questo abbiamo continuato a parlare negli anni e abbiamo anche iniziato a fare dell'edizione del freelance camp lontano da Ravenna, quindi non solamente, mentre i primi anni tutte le edizioni del freelance camp si svolgevano al Boca Barranca sulla spiaggia di Marina Romea, dal 2017 abbiamo anche cominciato a fare dei freelance camp in altre sedi, abbiamo fatto tre edizioni romane e nel 2018 una bella edizione a Lecce e avremmo voluto farne anche altre, avevamo molti progetti di edizioni locali quando nel 2020 è arrivata la pandemia e questa naturalmente ha dato uno stop agli eventi in presenza. Però nel frattempo la comunità del freelance camp era cresciuta di numero perché tantissime persone avevano partecipato agli eventi o avevano seguito delle edizioni del freelance camp in streaming o semplicemente avevano visto i video o letto le nostre newsletter e quindi quando ci siamo ritrovati tutti nel lockdown a lavorare da remoto, cosa che per noi freelance non è che fosse una novità, anzi ne avevamo parlato molto spesso durante i nostri eventi, però insomma il peso della solitudine e dell'isolamento si faceva sentire e la comunità del freelance camp è stata un grande aiuto per tutti e per tutte. Anche se non era possibile fare un freelance camp nel maggio del 2020 perché eravamo tutti ancora limitati nei movimenti limitati dal lockdown abbiamo organizzato una bella edizione online a giugno del 2020 e poi abbiamo deciso che era arrivato il momento di dare una configurazione stabile e permanente alla community attraverso una membership annuale che è partita nell'estate del 2020, è il freelance camp club e con il quale facciamo una volta al mese dei workshop online, gli zoom club, nei quali si impara perché c'è una persona o alcune persone che insegnano agli altri qualcosa e al tempo stesso si ha anche l'occasione di fare un po' di conversazione sia con persone che conosciamo da tanto tempo sia con nuovi, persone che conosciamo lì per la prima volta. Ecco una delle cose importanti del freelance camp, una cosa che ha sempre caratterizzato la nostra community e i nostri eventi, è stato lo spirito di accoglienza. Il fatto che anche le persone che arrivavano a un freelance camp per la prima volta senza conoscere praticamente nessuno si sentivano accolte, ascoltate e prese in considerazione. Io ho sentito tantissime volte persone dire non ero mai venuta qui, è la prima volta che ci sono ma mi ritrovo come se fossi nella mia famiglia, mi sento a casa, mi sento accolta. Ecco questa è una cosa che mi fa sempre tantissimo piacere perché è proprio il senso profondo di questo progetto, fare incontrare le persone, unirle, fare sì che nascano e si rafforzino le reti e che da queste reti poi nascano delle amicizie, a volte anche degli amori e spesso, molto spesso, dei progetti che si fanno insieme. Quindi con il club abbiamo dato regolarità al nostro incontrarci, lo facciamo ogni mese online, ma appena è stato possibile abbiamo anche ripreso a vederci in presenza. Abbiamo fatto una bella edizione di Freelance Camp nel settembre del 2020 in campeggio all'aperto e una altrettanto bella nel giugno del 2021. L'edizione del Freelance Camp di giugno 2021 è stata un'edizione particolare, un po' diversa dalle altre, dedicata solo a chi sta nel club, quindi alle persone che dall'estate 2020 alla primavera del 2021 hanno continuato a incontrarsi regolarmente ogni mese per imparare e per condividere. Quindi dopo un inverno e una primavera di lockdown più o meno rigidi e dopo aver finalmente iniziato a vaccinarci, abbiamo organizzato questa due giorni di condivisione e di amicizia, davvero, in cui abbiamo fatto il Freelance Camp, come sempre, con tanti talk e anche tavoli di discussione molto interessanti. Non abbiamo fatto le riprese video, ma abbiamo comunque deciso di registrare quello che ci siamo raccontati per poter condividere i talk con il resto della community in pieno spirito Freelance Camp. E così è nata questa serie di podcast. Per saperne di più, visita il sito www.freelancecamp.net e iscriviti alla newsletter. Riceverai subito 6 lezioni per diventare freelance migliori, una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del Freelance Camp.